Faremo un'esibizione musicale insieme alla poesia. Wow, che bello, quando poi comunque due forme d'arte diverse si fondono, secondo me viene fuori qualcosa, se siamo in grado di farlo, molto interessante e molto appassionante. Vi chiedo allora, a questo punto i contatti, così magari vi seguiamo per tutti i vari progetti. Allora, vabbè, contatto diretto, la mail se uno mi vuole scrivere, anche per chiederci dischi o informazioni o proporci anche delle serate, delle cose da fare, sicuramente è Amplifier Milano, amplifiremilano, chiocciolagmail.com Poi noi usiamo Amplifier Milano nei nostri social, perché come Amplifier basta, abbiamo visto che ce n'è più di uno nel mondo purtroppo, non era l'idea più originale che potesse. Vabbè, però vi troviamo senza problemi. Quindi Amplifier Milano su YouTube, Instagram e Facebook, saltiamo fuori noi. Perfetto, non ci scappate. Io vi faccio un enorme in bocca al lupo, complimenti per quello che fate, è stato un piacere, ci vediamo allora una serata. Grazie mille. Senza dubbio, sì, grazie mille. Amici di Storytime, anche questa intervista è finita, rimanete connessi per altre storie. Storytime, evoluzione radio.